L'abitazione è stata ristrutturata nel corso degli anni. Oggi ci troviamo nella centralissima via Alessi, a pochi passi da piazza Garibaldi. Vediamo questo ampio appartamento di più di 100 metri quadrati. L'abitazione è stata ristrutturata nel corso degli anni e come potete vedere l'ampio soggiorno, la cucina, due camere spaziose, due bagni e il grande balcone. Negli anni l'abitazione ha subito una ristrutturazione per quanto riguarda pavimenti in parchè di rovere, serramenti con doppio vetro e impianto elettrico. Il condominio è stato costruito negli anni 60, quindi grandi locali. Il riscaldamento è centralizzato con il contacalorie. Completa la proprietà il solaio. La potenzialità di questa abitazione, oltre ad essere centralissima, è la sua esposizione, est-sud-ovest. Quindi sole tutto il giorno e una grande luminosità. Se vuoi maggiori informazioni, clicca qui sotto oppure visita il nostro sito. Grazie. Grazie a tutti.